Ormai le persone che non si vogliono più vaccinare sono lo zoccolo duro, tranne quelle che non possono per patologie o per età, sono i complottisti, quelli che pensano di tutto e di più. Hanno negato l'esistenza dei morti di Bergamo, erano i morti accumulati in decenni non smaltiti, hanno negato l'esistenza del virus, è solo un raffreddore, negono tutto. E quindi diventa veramente complicato riuscire a dialogare con queste persone. Ovviamente la politica deve poterlo fare fino all'ultimo, però credo che quello che sta avvenendo in alcuni paesi come l'Austria e non solo, anche la Francia, sia indicativo. Noi non possiamo, e lo chiedono anche gli stessi governatori, di tutti gli schieramenti politici, anche del centro-destra. Non si può richiudere a casa le persone che hanno ottemperato al vaccino dando un esempio alla comunità e lasciare liberi le persone che invece in questo momento mettono a rischio la salute.